Ricomincia la sequenza delle partite nel campionato di Serie D Girone I. Domani la Cavese tornerà in campo, si giocherà di mercoledì a Lamberti contro il Paternò e in quella occasione la formazione di Emanuele Troise si giocherà le ultime residue possibilità di giungere al primo posto. Ovviamente il Gelbison mantiene una posizione di vantaggio con 71 punti, 4 in più dei Metelliani, ma finché il discorso promozione non è ancora chiuso non è possibile sentenziare nulla. Si giocherà per la quart'ultima giornata del campionato, si riapriranno al pubblico le porte del Simonetta Lamberti perché è stato scontato con il Lamezia l'obbligo di giocare a porte chiuse per la Cavese. E per l'ultima volta il calcio d'inizio sarà dato alle ore 15, dopodiché da domenica prossima si inizierà alle 16. I bianco-blu tornano a giocare 20 giorni dopo l'ultima partita, avevano pareggiato con il Lamezia e in questo periodo in cui non hanno giocato hanno impiegato queste tre settimane di riposo a preparare il rientro in campo previsto per domani. Nelle gare precedenti erano mancati giocatori come De Caro, come Fissure, mancava il miglior Aliperta e anche il miglior Carbonaro. Domani però stop forzato per Banegas, per Palma e per Potenza, tutti e tre squalificati. Dopo questa gara con i paternesi torneranno Palma e Potenza contro il Sant'Agata, Banegas sarà ancora squalificato. In giornata le convocazioni, comunque la probabile formazione con cui la Cavese dovrebbe affronteggiare i rossuazzurri sarà Anatrella, Gabrielli e Caserta, Aliperta, Altobello e Viscomi, Bacioterracino, Romizzi, Allegretti, Foggia e Romizzi. Emanuele Troise, l'allenatore, dovrebbe schierare nuovamente il 4-3-3. Probabile risposta del paterno allenato da Alfio Torrisi, Latella, Dama e Mangiameli, Basualdo, Scoppetta e Bontempo, Rizzo, Puglisi, Foderaro, Cangemi e Fichera. Di rientro l'attaccante Mascari, che però sembra destinato a partire dalla panchina. Nella partita scorsa, giocata il 24 aprile, il paterno ha perso in casa col Sant'Agata e quella sconfitta ha probabilmente pregiudicato ogni possibilità per i paternesi di giungere ai playoff. Gli Etnei, con i loro 45 punti, sono già salvi e a fine stagione potranno programmare in serenità la prossima. Cavese Paternò sarà arbitrata dal signor Valerio Vogliacco di Bari, i suoi assistenti Pandolfo di Castelfranco Veneto e Jurghi di Albano Laziale. In quello stesso momento, domani pomeriggio, la Cireale ospiterà il Lamezia Terme, mentre il Gelbison capolista andrà a Erice per affrontare il Trapani. Cavese Paternò in campo anche domenica prossima, i metelliani a Lamberti con il Sant'Agata, mentre i paternesi ospiteranno in casa la Cireale.